carissimi amiche amici ben trovati benvenuti sul canale anche in questa giornata pre natalizia però la vogliamo dedicare a un concetto un po più ampio una riflessione un po più ampia quindi potremmo titolare questo video alessia alice greta silvia liliana donne suicidate o ammazzate cosa succede in questa nostra società degli ultimi tempi quindi se dovessimo fare un elenco è un elenco lunghissimo quello delle donne ammazzate in quanto in quanto donne e di donne che si sono suicidate perché fragili in un mondo balordo che qualcuno asiva a vedere senza via di uscita vedete da un punto di vista diciamo sociologico sta accadendo qualcosa di di strano e la stranezza consiste in cambiamenti di struttura sociale nell'arco di pochi decenni oserei dire tanto che già avere 10 15 anni di differenza si considera oggi quasi una generazione di differenza non è sempre stato così però è un fenomeno nostro fino agli inizi del secolo scorso la evoluzione sociale avveniva con ritmi molto lenti trascorrevano 100 200 anni senza che gli equilibri sociali cambiassero poi dopo la cosiddetta rivoluzione industriale la società civile ha iniziato ad affrettare i tempi a cosere verso dei cambiamenti inimmaginabili tipo voglio dire l'illuminazione il telefono eh le automobili le tv i computer poi social tutto il terziario cosiddetto avanzato il genere umano non ha avuto abbastanza tempo ecco per adeguarsi a questi repentini cambiamenti per carità sono enormi i benefici derivanti dalla tecnologia in tutti i campi ma proprio perché cambiamenti così veloci ne ha risentito un po' l'umanità i rapporti fra le persone e gli equilibri sociali come non considerare ad esempio sempre parlando a livello sociologico in generale le famiglie consideriamo che le famiglie si reggevano sostanzialmente su una ingiustizia una ingiustizia secolare che stabiliva dei ruoli dei ruoli prevalenti e il ruolo prevalente lo aveva l'uomo l'uomo cioè il maschio indese come maschio per meglio dire nella famiglia decideva il padre il il marito il figlio maschio una cultura sociale diremmo oggi un po' talebana diremmo così in cui la donna e me aveva un ruolo secondario ovviamente fatta fatte delle debite eccezioni però fatto sta che in linea generale si leggeva sulla dicotomia l'uomo lavoro mantiene la famiglia mantiene la moglie si diceva ad esempio auguri figli maschi no nel noto noto proverbio addirittura fino al dopo quale esisteva l'omicidio per onore per ragioni di onore il matrimonio il matrimonio spesso lo si sceglievano sceglievano le famiglie quali dei figli fra di loro si potevano sposare qualcosa che oggi sembra appartenere a millenni fa ma voglio dire non siamo tanti e tanto lontani nel tempo poi finalmente i movimenti femminili la la cultura che cambia vi va a dire verso una sostanziale parità dei diritti e dei doveri e la stessa famiglia come considerate come unione fra esseri liberi uguali che si scelgono che si desiderano si uniscono appunto e condividono la vita insieme abbiamo ricordiamo le battaglie memorabili per l'abbosto il divorzio e poi man mano arriviamo ai nostri giorni in una situazione sostanzialmente formalmente garantista dei diritti dei doveri della parità dell'uomo e della donna sostanzialmente però però cosa succede che la storia dell'uomo di milioni di anni quello delle civiltà strutturate di migliaia di anni ma poi il cambiamento vero che avviene negli ultimi 60 anni 50 60 anni non ha precedenti nella storia ecco c'è vorrei sottolineare ecco la repentinità del cambiamento degli ultimi 50 60 anni e dato che sono stati così repentini questi cambiamenti trovano molte sacche di resistenza dovute al alla vecchia cultura maschilista che si tramanda in certe zone da padre a figlio per cui ancora oggi ecco si fatica ad accettare il confronto fra uomo e donna e l'accettazione anche delle libere scelte di ciascuno di noi perché se noi ragioniamo che cosa sono in effetti i femminicidi sono per lo più dei ritardi culturali sono dei fenomeni culturali sono compostamenti di ex mariti o amanti o ex fidanzati che non accettano che una donna che essi avevano amato possa fare scelte diverse scelte di vita diverse con ciò non dico che bisogna essere refrattari al dolore che si prova sicuramente alla sofferenza per la fine di un rapporto fa parte del dell'animo umano però qualsiasi delusione o sofferenza non dà diritto a prevaricare la volontà dell'altra persona fino al punto da sdivare a usare violenza ad uccidere a dire o sarei mio di nessuno è un aspetto questo culturale da insegnare io l'ho sempre sostenuto fin dalla prima classe elementare allo stesso alla stessa stregua delle lingue dell'informatica ogni rapporto umano di amicizio di amore nasce nasce teoricamente per sempre non nasce a termine ogni volta è per sempre ma dobbiamo sempre pensare che possa finire l'amore d'altronde se non è un sentimento reciproco non ha alcun valore questo dovremmo capire ancora non c'è in tutti la sufficiente maturità di partire dal rispetto per l'altra persona questo è un po alla base anche dei casi che seguiamo che abbiamo seguito dei principali casi di cronaca prendiamo ad esempio il sicuro femminicidio di di Alice Neri una donna Alice Neri una donna in cerca dei suoi equilibri che viene giudicata ecco dai ben pensanti senza nemmeno conoscere ancora i fatti circostanziati una donna che in tutti i casi è stata uccisa per il fatto di essere donna di non aver fatto magari qualcosa vittima di sicura violenza e poi invece prendiamo non so il caso di Alessia Bo di Duino vicino Trieste caso caso sembra questo qua di sicuro suicidio eppure una donna di 43 anni ricercatrice universitaria moglie madre di due figli che è stata lasciata sola evidentemente nel suo disagio psichico sicuramente al punto da scegliere di suicidarsi non riuscendo più a gestire la propria vita lasciando addirittura i figli poi ci sono tanti casi dubbi come quella di Liliana Resinovic dove non si sa ancora se parlare di suicidio o parlare di omicidio vedete quello che mi premeva riflettere è che questi femminicidi e questo incremento di suicidi ha origini nelle caratteristiche della nostra società contemporanea come se non bastasse poi negli anni scorsi c'è stato anche poi il covid con il lockdown che ha aggravato tante situazioni perché gli uomini e le donne siamo tutti animali sociali ed abbiamo vissuto circa un paio di anni in una situazione valorta surreale di segregazione praticamente ma al di là di ciò al di là di ciò è l'esplosione dei social ecco questo dobbiamo parlare oggi c'è il fenomeno preoccupante dell'esplosione dei social un fenomeno inquietante delle ultime generazioni vediamo giovani e non solo che vivono incollati incollati ai loro smartphone 24 ore su 24 anche quando guidano la macchina quando pranzano cenano a tavolo o l'aperitivo camminano per strada sempre guardando nello smartphone uno stare 24 ore su 24 praticamente a contatto con i social creando un mondo di omologati di globalizzati senza pensieri propri e isolati sì isolati sì perché paradossalmente pensate che la parola social posta con sé l'idea di socializzazione social cioè il far mettere in contatto tra di loro le persone ma per paradosso avendo esteso i contatti in un modo incontrollato senza limiti hanno relegato le persone alla solitudine chiusi spesso nelle loro stanze a chattare dalla mattina alla sera con contatti mai conosciuti di persone è vero è anche questo un fenomeno che ci sta sfuggendo di mano agli amici e cari amiche miei è stata fatta recentemente mi sembra anche un'ordinanza ministeriale per impedire l'utilizzo dei cellulari durante almeno le elezioni scolastiche ma poi c'è l'aspetto soprattutto che riguarda l'amore peculiare che dovrebbe anche questo cosere oggi sulle onde elettromagnetiche dei social una sorta di follia collettiva ci si trova con uomini e donne sposati e non che sui social hanno storie pseudo affettive con persone mai conosciute a volte poche forse si conosceranno forse e questa una delle cause della instabilità affettiva l'aspetto narcisistico più o meno sviluppato in noi tende ad avere compiacenza delle attenzioni ricevute delle belle parole dei curicini che viaggiano online che giungono a centinaia dai contatti ciò provoca una sorta di quello che io chiamo una sorta di stordimento emozionale ecco per cui non si riesce più a dissociare dissociare la vita reale da quella virtuale a parte ciò poi c'è la la vita anche sociale lavorativa relazionale che pone le persone oggi che si si lavora tutti uno scontro pressoché continuo di emozioni sia positive che negative questa sorta di globalizzazione di globalizzazione emozionale porta come conseguenza che una coppia specie se giovane deve avere dei sentimenti davvero sani alla base forti profondi che li unisce un desiderio di passione che li rende inossidabili alle cosiddette tentazioni esterne e per fortuna ci sono queste coppie per carità consolidate che si amano e che hanno valori profondi ci sono ma ce ne sono tante troppe che vanno in crisi e da loro si dividono oppure vanno ad instaurare equilibri diversi diciamo così fra di loro a volte non si accetta nessun tipo di cambiamento si innesca la violenza e che questa violenza vede quasi sempre soccompere alla donna per una questione se non fosse altro di struttura fisica è qui che bisogna intervenire credo nel recuperare innanzitutto un modo di vivere più a misura d'uomo rallentando i ritmi i ritmi selezionando gli impegni vivendo secondo le proprie inclinazioni quello che ci dice quella vocina che abbiamo dentro il proprio seme il proprio se noi siamo una pianta unica originale non possiamo vivere secondo le proiezioni d'arte secondo volendo assomigliare a qualcuno dobbiamo vivere assomigliando a noi stessi un po più istintivamente quello che dovremmo fare e poi essere aperti ecco al cambiamento ecco perché ripeto in amore soprattutto se non c'è la reciprocità non vale nulla donne contese dilaniate divise confuse frastornate anche per colpa di uomini senza scrupoli diciamoci la verità donne impegnate nel lavoro nella famiglia e in vari impegni ed assalite nello stesso momento attorniate da questi social in cui tanti narcisi si propongono come principi azzurri pieni di belle qualità e allora cosa succede che chi non ha ecco una una buona autostima ecco perché io ho fatto anche video sull'autostima c'è una una stima di sé un valore di sé profondo ecco chi non ha questa struttura psicologica va in crisi ma in crisi non riuscendo più a conciliare i tanti aspetti della propria vita ed ecco che è un attimo che si può affacciare addirittura l'idea di suicidarsi non trovando delle vie di uscita ed ecco cosa sta succedendo negli ultimi decenni uomini e donne soprattutto in crisi di nervi con uomini deboli di carattere che rovinano la loro vita sfogando la rabbia represse le violenze che hanno dentro poi ci sono donne che nonostante così impegnate ma sono fragili che vengono circuite che cadono vittima forse della loro bellezza di quella bellezza tanto ricercata per essere oggetto magari di lusinghe di adulazione una bellezza estetica che è un altro falso mito perché ognuno dovrebbe avere le proprie caratteristiche ognuno ha la propria bellezza quindi c'è il falso mito di questa società di un bello omologato di una bellezza che non si sa a chi ispirarsi insomma una bellezza che alla fine è un concetto astratto un qualcosa che se non si accetta ecco come si è fatti e la bellezza è una delle cose che può far male quindi volevo proprio concludere con una frase del grande Thomas Mann che diceva appunto la bellezza ci può trafiggere come un dolore ecco la bellezza che diventa dolore quindi questa giornata natalizia questo è diciamo il mio pensiero diciamo su su questo fenomeno diciamo che vede coinvolto soprattutto le donne fenomeni di legato al femminicidio soprattutto perché perché stiamo andando verso una deriva in cui non ci ama non ci amiamo tanto ecco non abbiamo tanto stima di tanta stima di noi non seguiamo le nostre caratteristiche ecco finiamo per omologarci quindi vittima poi di questi social che ci vogliono perfetti ci vogliono così come nei modelli che sono di moda e chi ha fragilità finisce ecco per perdersi e per perdere anche la propria vita ok grazie grazie della vostra attenzione vi ho rubato una ventina di minuti ma credo che queste cose siano interessanti di nuovo buon natale a tutti il vostro nel cuore a presto